Al via da domani anche in Abruzzo le prenotazioni di massa dai 16 ai 69 anni. Sarà attiva dalle ore 14 di giovedì 3 giugno la piattaforma posta è prenotazioni.vaccini.covid.gov.it per la prenotazione delle vaccinazioni anti-covid riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Per la fascia di età tra i 12 e i 15 la regione sta attendendo le indicazioni ufficiali da parte della struttura commissariale. Pescari è partita in anticipo. Ieri sono state attivate le prenotazioni per gli over 18 ma solo per i residenti in città. Sempre domani la giunta regionale si riunirà per approvare le due delibere che daranno il via alle vaccinazioni nelle farmacie. Hanno aderito oltre 300 farmacie su 400 nelle aziende. Per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni la direttiva è di utilizzare il vaccino Pfizer. Le somministrazioni saranno effettuate seguendo la tempistica delle prenotazioni e non la fascia di età. Rispettando dunque l'ordine cronologico sono 5 le modalità per prenotare la dose, cioè il portale delle poste, collegandosi all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it muniti del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Si può contattare il numero verde 800 00 99 66 oppure utilizzare uno dei 270 sportelli postamat presenti sul territorio regionale. Ci si può prenotare tramite i portalettere in servizio in Abruzzo e attivo infine il servizio di prenotazione via SMS inviando un messaggio contenente il codice fiscale al numero 339 99 039 47. Massimo in 72 ore il servizio clienti di poste italiane ricontatterà l'utente per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento. Da domani la piattaforma poste sarà abilitata anche a ricevere le prenotazioni per la vaccinazione da parte dei cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero. Intanto ieri in Abruzzo sono state iniettate 10.894 dosi. In totale sono 283.071 i cittadini abruzzesi hanno ricevuto la prima e la seconda dose. Complessivamente in Abruzzo sono state somministrate oltre 800.000 dosi pari all'89.6% di quelle ricevute in consegna. Secondo le elaborazioni del sole24ore.com l'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 11.627. Di queste 550 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero due mesi e 26 giorni per coprire il 70% della popolazione. L'obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 27 agosto in linea con le previsioni del governo. Intanto sono circa 7.000 maturandi che hanno manifestato il loro interesse a vaccinarsi entro i termini previsti dalla piattaforma. Da domani partiranno le somministrazioni per i ragazzi che sosterranno l'esame di maturità al via dal 16 giugno.